Musica Prosegue il corso di Torah Chumash colè il Torah Roma Stavamo raccontando la storia della guerra, del conflitto armato Tra i quattro re potenti della zona al nord della terra di Canaan Che sono venuti in zona per schiacciare una rivolta, una ribellione Delle province più piccole, in particolare cinque re con altri satelliti intorno Ed è stato, in questa storia è stato coinvolto Lot, il nipote di Abraham Come abbiamo spiegato nella scorsa lezione Questa era una cosa ammirata Perché Abraham era una persona importante nella zona Avrebbe potuto pagare una grande somma per riscattare il prigioniero suo nipote Lot Ma viene vista anche dai nostri commentatori come uno scontro spirituale Era uno scontro fisico ma uno scontro contro, dal punto di vista ideologico Contro le idee che Abraham cercava di far diffondere, di divulgare Il credo contro il paganesimo, contro l'idolatria E la fede in Akkadosh Baruchum Quindi nel capitolo 14, al versetto 14, leggiamo Credo che abbiamo già letto la scorsa volta, ma ripetiamo Avraham sentì, Avraham ricevette una notizia Dalla quale evince che il suo fratello La Torah usa il termine fratello Significa il suo parente Cioè il suo nipote nello specifico È stato preso prigioniero E quindi Avraham agisce Cosa fa? Avraham Arma 318 uomini Le sue persone addestrate Della sua casa E inseguì I quattro re Fino a Dan Perché la Torah ci dice il numero esatto dei soldati che erano con Avraham? Beh, innanzitutto la Torah forse ci sta indicando quanto Debole in realtà era Avraham In relazione alle Cioè comparandolo alle altre potenze In particolare i quattro re Contro i quali si stava Accingendo per combattere Quasi una cosa Un fallimento dalla partenza 318 persone Da una parte E Dall'altra parte I quattro re Fanno presente una cosa interessante Che rientra nel mondo del remes Delle allusioni nella Torah In quanto il valore numerico Ogni lettera ebraica Ha anche un valore numerico Per esempio la lettera Alef Corrisponde al numero 1 La Bet al numero 2 E così via Il valore numerico Di 318 Corrisponde esattamente Al valore numerico Della parola Eliezer Eliezer era il servo E diciamo Alla mano destra Di Avraham Cosa sarebbe qui L'allusione Secondo alcuni Midrashim Che sono citati Anche da Rashi La Torah Sta alludendo Che in realtà Non c'erano 318 persone Ma c'era solamente Una persona Eliezer Che il suo nome Corrisponde al numero 318 E che questo È ancora più Fantastico Come Come pensiero Cioè Cosa sta dicendo La Torah qui Secondo il Keliakar Uno dei commentatori Anche secondo Rashi Che cita questo Midrash Sarebbe d'accordo Anche lui Che in realtà Erano 318 persone Ma Perché Perché bisogna Comportarsi Secondo le regole Della natura E non appoggiarsi Direttamente Ai miracoli Questo i maestri Lo insegnano sempre La domanda è Per quale motivo La Torah ci sta dicendo Che sono 318 persone Per dirci Che La guerra Era così Difficile La battaglia Sarebbe stata Una cosa così Complicata Fino al punto Che non sarebbe Stato Fisicamente Materialmente Possibile Sconfiggere L'altra parte E quindi È necessario L'unica cosa La quale si può Ricorrere È alla Emunah E appoggiarsi Al miracolo Di Akkadosh Baruch Hu Cosa che È indicata Nel nome Eliezer Perché Essendo Il numero Di persone 318 Non che non c'erano 318 persone C'erano Ma quel numero Ci ricorda Il nome Eliezer E qual è Il significato Del nome Eliezer L'aiuto Del Signore Ezer Ezra È Aiuto Assistenza La prima parte Del nome Indica Il nome Di Hashem Eliezer Il mio Dio Mi è Di sostegno Mi è Di aiuto In altre parole La Torah Indica Dalla partenza Che Avraham Non si appoggia Totalmente Al miracolo Cosa che Sarebbe Vietata Bensì Fa tutto Ciò Che è Possibile Per lui Materialmente E per il resto Si affida Da Akkadosh Baruch Hu Eliezer Hashem Aiuterà E così Troviamo Avraham Come sempre Il genio Della Emunah La rocca Forte Della fede Avraham Impiega Una strategia Particolare Per Appunto Cercare Di sconfiggere Questi Quattro Re E la Torah Dice al versetto 15 In una mezza Frase La Torah Descrive Tutta la strategia E l'esito Della Della Battaglia Dicendo Che durante La notte Lui Avraham E i suoi servi Quindi Questi 318 Uomini Si Suddivisero Quindi si Suddivisero In due Accampamenti In due Gruppi Per andare Contro Per colpirli Li colpirono E Quindi Cosa vediamo Da questa Da questa Prima metà Del versetto Che loro Impiegarono Una strategia Di Una doppia strategia Per ingannare L'altra parte E cioè Prima di tutto Non era all'uso All'epoca E anche molto più avanti Nella storia Combattere Di notte E loro Fescero la loro Campagna Di notte E anche Si divisero In due Parti Per attaccare L'accampamento Dei nemici Da due Lati diversi E quindi Per creare Un inganno Per creare Per loro L'idea Che c'erano Molte più persone Di quante c'erano In realtà Usufruendo Dalle due Direzioni Dalle quali Venivano E dal fatto Che era Buio Di notte E quindi In questa situazione La Torah dice Alla fine Dello stesso versetto Avendo colpito Loro Avendo in realtà Sconfitto Loro Avraham Continuò Ad inseguirli Fino A Hova Che si trova A sinistra Si intende A nord Di Damasco Quindi Li fece Fuggire Molto più A nord Rispetto Alla zona Che stavano Cercando Di proteggere E In quella In quella Situazione Avraham Riuscì Ad ottenere Tutto il bottino Che era Stato preso Da I quattro re E riuscì A liberare I prigionieri Cosa che è Descritta Nella prossima Nel prossimo Passuc Il prossimo versetto Che ci dice Nel versetto 16 Recuperò Fece tornare Indietro Tutto il bottino Che era stato Preso Da Sedom E Riprese Anche Il suo Fratello Quindi parente Lot E i suoi beni Ve gam et hanashim Ve et haam E anche Gli altri Gli altri prigionieri Quindi tutte le donne E il resto del popolo Che erano stati presi In prigionia Sono stati liberati E riscattati Da Avraham Ed ora Cosa succede? In questo momento Avraham viene accolto Come un generale Che ha vinto La campagna militare Che ha sconfitto Il nemico E Gli viene dato Un grande cavodo Un grande onore Da parte di chi? Soprattutto da parte Del re di Sedom Qui riveleremo quindi Nella Torà Che il re di Sedom Che era fuggito Durante la campagna La prima campagna militare Ed era caduto Là dove Nei pozzi di argilla Della zona Come abbiamo Visto la scorsa volta In realtà Non era morto Era sopravvissuto In quei pozzi In qualche maniera Ed ora Lo troviamo Che accoglie Avraham Al ritorno Della sconfitta Del nemico Vediamo Al versetto 17 Passuk Yudzain Versetto 17 Vajetze Melech Sedom Li Kratò E il re di Sodom Andò Usì Per andare incontro Ad Avraham Acharei Shuvò Meakotet Kedorla Omer Dopo che questo Tornò Dall'aver colpito Dall'aver sconfitto Kedorla Omer Il più importante Dei quattro re Veeta Melachim Asher Ito E gli altri re Che erano con lui Dove venne ad accoglierlo Luogo che abbiamo già menzionato In precedenza Il Emek Shaveh La zona che si chiama La valle di Shaveh E cioè Emek Hammelech La zona che si chiama La valle del re Shaveh Significa letteralmente Un luogo Piano Una pianura Un luogo in cui Non ci sono ostacoli Un luogo Che Dicono i commentatori Veniva usato Quale Uno stadio Un luogo dove Avvenivano delle gare Essendo un piano Dove non c'erano ostacoli E lì Era appunto La valle Quello che la Torah chiama Anche la valle del re Lì venne incontro Il re di Sodom Ad Avram Allora Di nuovo Vediamo che il re di Sodom Si era salvato Era sopravvissuto Al discorso precedente E Potrebbe anche darsi Se noi Leggiamo il commentatore Ramban Nachmanide Potrebbe anche darsi Che era stato proprio Avram Durante la campagna Nel Mentre si spostava Verso nord Che Oppure quando è venuto Nella direzione di Sodom Per iniziare La campagna militare È lui Che ha fatto Che ha aiutato Il re di Sodom A sopravvivere Che gli ha salvato la vita Che l'ha tirato fuori Dai pozzi Nei quali erano caduti E Quindi qui viene menzionato Solo il re di Sodom E non il re di Amorà Che anche lui Era caduto nel pozzo Forse lui Non è sopravvissuto Non viene menzionato E qui Dove si Incontrano Si incontrano Appunto in questo luogo In cui Gli importanti I re I principi Facevano le gare Quindi la pianura La valle del re Ma che cosa Si nasconde In questa descrizione Perché la Torah Ci deve dare Il punto geografico Esatto Nel quale si incontra Nel quale il re di Sodom Va incontro Ad Avram Emek Shave Se guardiamo Il commento Di Rashi Rashi dice Citando il Midrash La parola Shave Che si intende qui dire Un luogo piatto Piano Shave vuol dire anche Uguale Ovviamente si capisce Perché questo si chiama Un luogo piano Ma Cosa si intende Per uguaglianza Tutti I re Tutti Gli idolatri In maniera uguale Hanno lodato Ed hanno ringraziato Avram E gli hanno detto Tu sei per noi Il nuovo capo Tu sei per noi Il nuovo leader Tu sei per noi Tutto C'è scritto Nel Midrash Che hanno creato Un palco Sul quale Hanno messo Avram E hanno detto Come se lui fosse La divinità Quasi Questo erano abituati A fare E Avram Chiaramente Ha usato Ha usufruito Di questa opportunità Per insegnare loro Che non andava fatto Questo Che neanche andava Ringraziato In realtà Avram Come vedremo Non accettò Neanche Totalmente Tutto ciò Che loro Volevano offrirgli Non accettò Sicuramente Di essere In qualche maniera Divinizzato Quindi tutto questo Rientra Anche nel Progetto generale Dell'opera Di Avram Chi altro c'era In questa occasione La Torah racconta Nel versetto Successivo Yudget 18 Un uomo Che si chiama Malki Zedek Che viene descritto Come Melech Shalem Il re di Shalem Proseguiamo Poi spieghiamo Egli Il re Malki Zedek Lo benedì Ad Avram Egli disse E disse Sia benedetto Avram Dal Signore Celso Padrone Del cielo E della terra E prosegue E sia benedetto Il Signore Celso Che ha consegnato I tuoi nemici Nelle tue mani Avram Diede A questo re A questo Quindi sacerdote Avram Gli diede La decima parte Di tutto ciò Che possedeva Qui il primo esempio Della mizvah Del maasser Di Devolvere Una decima parte Dei propri guadagni O dei propri possedimenti In Beneficenza Questo fece Avram Con Ciò che aveva E diede una parte Una decima parte Al Malki Zedek Ora che era Questo Malki Zedek Non abbiamo sentito Il suo nome Finora Allora La prima cosa L'allusione Nel nome Della sua città Shalem Cosa ci ricorda La parola Shalem In realtà È la seconda parte Del nome Yerushalayim Nelle fonti Yerushalayim E' scritto Yerushalayim Senza la Yod Verso la fine Della parola Prima della Mem finale In quanto Yerushalayim Come viene chiamata Nel Tanakh Anche se si legge Yerushalayim Secondo le fonti Questo era Lo stesso luogo Che poi diventa Yerushalayim E chi era questo re Secondo i chiamim Era Lo conosciamo già Ma con un altro nome Lo conosciamo Con il nome Shem Shem Il figlio di Noach Noè Anche se Shem Viveva Tra popoli Idolatri Lui Riteneva La tradizione Ricevuta Da Noach In precedenza Fino ad arrivare Ad Adama Rishon Della Fede Inakadosh Paruchu Della fede Nell'unico creatore E lui mantiene Questo credo E ringrazia Kadosh Paruchu Quando Incontra Avram Anche per la sconfitta Che Avram Ebbe Contro i nemici E Avram Appunto gli dà Quel dono Quella decima parte Del bottino Che aveva ricavato Tramite questa campagna militare E vedremo poi Cosa ne farà Avram Dell'altro Dell'altra parte Del 90% Rimasto E se noi parliamo Delle storie Degli avi Come Diventano Un'indicazione Stradale Se vogliamo Per Ciò che accadrà Con i figli Qui L'esempio È proprio L'ampante Cioè Il precedente Si viene A Yerushalayim E si dà Una parte Dei propri beni Ai Kohanim Proprio come faranno Gli ebrei più avanti Nella storia Quando sarà costruito Il Bet Hamikdash Quando porteranno I loro doni Che la Torah Prevede Siano appunto Destinati Ai Kohanim Ai sacerdoti Del Bet Hamikdash Quindi il simbolismo Qui è molto forte Vediamo che Malchizede Questo re Che abbiamo Identificato Con Shem Viene A offrire Quelle due cose Simboliche Vino E pane Cosa che Il re di Sedom Non fece Anzi Vedremo Cosa è La prima cosa Che il re di Sedom Dice Ad Avraham Subito Nel successivo Versetto 21 Va yomer Melech Sedom El Avraham Disse Il re di Sedom Ad Avraham Ten lihan nefesh Ve arechush Kaklach E cioè Dammi le anime Dammi le persone Ovvero Per le regole Della guerra Avraham Ora È Diciamo Il padrone Tra virgolette Di questi prigionieri E il re di Sedom Dice Dammi Le persone Cioè I prigionieri Che erano stati Presi da Sedom Ve arechush Kaklach E tu Prendi Il bottino Tienilo Per te Sono pronto A capire Se vuoi tenere Il bottino Quello te lo puoi tenere Ma almeno le persone Ridammele Quindi lui Subito parla Ten li Dammi Lui è subito Egoista Il re di Sedom Il midrash Dice Che il re di Sedom Nonostante Il re di Sedom Nonostante La sua umiliazione Nonostante Il fatto che era quasi C'aveva quasi lasciato La vita Lì in quella campagna militare Eccetera Comunque non perde Il suo egoismo E viene A dire A iniziare A fare come Un negoziare Con Avram Dicendogli Io ti do Io ti lascio Tenere il bottino Tu mi dai I prigionieri E Avram gli risponde Non funziona Così con me Vediamo il versetto 22 Fai yomer Avram El melech Sedom Disse Avram Al re di Sedom Im E scusa Harimoti Yadiyelashem E cioè Alzo la mia mano In giuramento Significa E' un modo di dire Che fa un giuramento Alzo la mia mano Davanti all'Eterno Il Signore Eccelso Creatore del Cielo e la Terra Padrone del Cielo e la Terra E cosa è il contenuto Del giuramento Vediamo il versetto 23 Im Michut Vead Serroch Naal Vi Mekach Mikola Sherlach Che del bottino Non tratterò Né un filo Né un laccio Di una scarpa Di un sandalo Un legaccio Non prenderò nulla Di tutto ciò Che ti appartiene Come compenso Perché tu Non potessi dire Tu non possa dire Io Re di Sedom Ho reso ricco Avram Perché? Perché io Avram Confido in A Kadosh Baruch Hu Mi ha detto Che lui Mi renderà Ricco Non sicuramente Attraverso L'appropriarmi Di beni Altrui Anche se Per le regole Del gioco Per così dire In maniera legittima Non sarai tu Re di Sedom Che dirà Io O per mia causa Avram Si è arricchito Sulla mia Disgrazia Si è arricchito Avram Non ho bisogno Dei tuoi favori Tieniti tutto E quindi Conclude Dicendo Bil Adai Non tener conto Di me Rak Asherahilua Nearim Solamente ripaga Ciò che hanno Mangiato I Giovani Cioè I soldati Di Avram Vechelle Kaanashim Asherahu Iti E la parte Degli uomini Che sono venuti Con me Cioè Le persone Importanti Che si sono unite Ad Avram Nella sua campagna Come abbiamo visto Che lui aveva Degli alleati La scorsa lezione Aner Escole Mamre La parte Che loro Vorranno Loro Essi Prenderanno La loro parte Quindi Paga le spese Di quanto Hanno dovuto Spendere I ragazzi Ma Non prendono Nessun bottino Avram Quindi Dice la parte Che spetta Alle spese La parte Che spetta Agli alleati Che Le fonti Dicono Non hanno Partecipato Fisicamente Niente alla campagna Ma sono rimasti Nella linea Dietro Per salvaguardare Il Tutto ciò Che erano Le Gli oggetti Tutto quello Che era Il Come dire Il materiale Che si sono portati Con sé E quindi Sono considerati Anche loro Una parte Della campagna militare Più vasta Una parte Della Esercito Diciamo così E Questo anche In futuro In altre campagne militari Dei figli di Avram Degli ebrei Coloro che rimangono Dietro A Che lezioni Possiamo trarre Da questo Racconto Che la Torah Ci racconta Tutto il discorso Di questa Campagna militare C'è un'opera In cui Un'opera Che si chiama Melameda Talmidim Dell'inizio Del XIII secolo Dove Elenca Una serie Di lezioni Molto Interessanti Da Questo Racconto Cioè Quali sono Le lezioni Specifiche Nel nostro Nella nostra Crescita Caratteriale Che la Torah Vuole Trasmettere Attraverso Questo racconto La prima cosa Midat Arachamim Significa Un comportamento Di misericordia Sentimento Di misericordia Cioè La reazione Di Avram Nel momento In cui Viene a sapere Del disagio Nel quale Nel grave Disagio Nel quale Si trova Il suo parente Il suo nipote Lot Nonostante Non fosse Proprio Una persona Così degna Per altre Motivazioni Come abbiamo Visto Nella scorsa Lezione Ma Avram Prova Un sentimento Di misericordia Nei suoi confronti E La seconda Cosa Qui elencata Sarà Midat Aghevurae Cioè Il L'aspetto Caratteriale Del rigore Della disciplina Della autodisciplina Che Avram Non solo Si sente Diciamo così Ha un sentimento Di misericordia Nei confronti Del suo parente Ma è pronto Anche A mettersi In ballo E andare Anche incontro Al pericolo In una maniera Sproporzionata Rispetto a quelle Che erano Le forze Disposte Sul campo E Quindi poi La terza cosa La terza cosa È Il tratto Caratteriale Della Histabkut Cioè La contentarsi Dei beni Materiali Che Si hanno Già E non Avere Quella sete Che in realtà Non è mai Non è Non è Impossibile Dissetarla Quando c'è Questa sete Cioè Quella di voler Sempre avere Di più Infatti Avram dice Non voglio Neanche Un laccio Di una scarpa Da quel bottino Che teoricamente Sarebbe stato Il suo Per legge Legge internazionale Legge di Guerra Legge anche Di qualsiasi situazione In cui Viene Una persona Viene in possesso Di qualcosa Di un bene Per il quale Il proprietario Originale Ormai Ha rinunciato Al possesso Quindi è come Se si acquistasse Qualcosa Non da un'altra Proprietà Ma dal nulla Una cosa Che non ha Proprietario In questo In questo caso Avram dice No Non mi interessa Ho quello Che mi serve Avrò quello Che mi servirà Non sarai tu A dire Mi hai arricchito La quarta cosa Il comportamento Di fiducia Di vicinanza Di fratellanza Con i propri Alleati Cioè Il fatto di acquisire La fiducia Delle persone Che sono anche pronte Loro Come sei pronto tu A mettersi in ballo Per il loro bene E viceversa E quindi la Torah Fa riferimento Per questo Per insegnarci Questa lezione Per questo La Torah Fa riferimento Ai Baalei Berit Avram E cioè Agli alleati Di Avram Come abbiamo visto E la quinta cosa È il ringraziamento Il riconoscimento La riconoscenza Nei confronti Di Akkadosh Baruch Hu Che si esprime Nel suo dono Di quel 10% Ad Al re di Shalem Malchizedek E allora Ricapitolando La storia I re del nord Hanno cercato Di schiacciare La rivolta Dei cinque re locali Di Sedome Amorà E vari satelliti E hanno cercato Di schiacciare Anche Avram Prendendo Il suo nipote Lot In Prigionia Come prigioniero La Torah spiega La grandezza E la forza Di questi cinque re E quanto Sarebbe stato Difficile Andarli contro E nonostante ciò Avram Ha deciso Di intraprendere Quella campagna E strada facendo Ci ha insegnato Molte lezioni Di comportamento Che possono essere valide Non solamente In una campagna militare Ma anche Nella campagna Diciamo Di La campagna quotidiana Che è quella Di sconfiggere Il nostro Iezeradano 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 Iezeradano